Cominciamo questo settimo, penultimo seminario di questa prima serie dei seminari della Siel che ci hanno accompagnato in questo ottunno. Questo seminario fa il focus e il punto sulla formazione nell'ambito medico-sanitario. Se ne parla Vito Lavolpe dell'Università Aldo Moro di Bari, Vito è il medico, membro del Consiglio Direttivo della Siel e da sempre, da molti anni si è occupato di diverni soprattutto nell'ambito medico-sanitario e oggi ci fa il punto su Medicina 2.0, la formazione. Quindi Vito ti lascio la parola, il campo aperto e ci ritroviamo alla fine per guidare la distruzione. Prego Vito per la parola. Grazie Tommaso, grazie per la tua partecipazione e per la possibilità che ci dai per svolgere questi seminari. Un saluto a tutti, spero che l'argomento possa essere interessante per tutti. Non vedo ancora le diapositive, spero di poterle vedere. Grazie. Ecco che stanno caricando, ecco grazie. Quindi un ringraziamento a Tommaso per tutto l'appoggio che ci dà, per il suo impegno, per la sua passione. Scusate se anche ringrazio Luisa Righetti che anche ieri sera mi ha aiutato e mi ha supportato perché questo seminario possa andare bene. È un settore, quello della medicina, un po' specifico, però credo che tutti possano essere interessati a quello che avviene nel nostro campo e io credo che questo seminario possa eventualmente essere di stimolo per tutti i colleghi che si interessano di formazione vedendo un po' quello che si sta facendo nel campo della medicina. In questo seminario ci saranno tante domande, io sono a disposizione, nel senso che appena leggo qualcosa e qualcuno di voi vuole fermarmi, io mi fermo e così possiamo anche discutere tutti insieme com'è nella logica di un seminario via web. Quindi certe volte io porrò delle domande, aspetterò un po' un attimo e nel caso qualcuno voglia dire, voglia portare il suo contributo. Perdonatemi se dico delle inesattezze, lo dico soprattutto agli eventuali colleghi presenti, se dico delle imprecisioni eventualmente mi correggerete. Io parlo di questo tipo di applicazione della medicina perché il campo della medicina è affascinante sia dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista dell'utilizzo delle tecnologie informatiche in campo medico. La medicina veramente può utilizzare queste tecnologie sia in campo didattico e lo vedremo soprattutto oggi in campo formativo però le tecnologie informatiche possono dare un grande sviluppo alla medicina in un nuovo settore che secondo la mia personale opinione sarà il futuro della medicina, cioè la medicina a distanza, l'assistenza a distanza. Questa abbranca particolare della medicina che si chiama telemedicina avrà nei prossimi anni un sicuro sviluppo in campo applicativo e ovviamente le tecnologie informatiche determineranno anche il successo di questo tipo di assistenza. Non è un caso che l'Università di Firenze con il collega Gensini proprio quest'anno inaugura un master in telemedicina nella propria università. Io vorrei partire con questa diapositiva che un po' fa vedere il gioco dell'oca perché il cammino che deve intraprendere un qualsiasi ragazzo, studente che voglia entrare nella nostra facoltà è un cammino molto lungo, tortuoso, con alcune difficoltà da superare per arrivare finalmente alla laurea e poi per continuare nella specializzazione e poi per esercitare la sua attività di medico o comunque di operatore sanitario, insomma di infermiere, di fisioterapista, è la prima difficoltà come voi sapete è che l'accesso alla facoltà di medicina ai suoi numerosi corsi di laurea è un accesso al numero programmato e quindi lo studente si trova con questa cancellata che io faccio vedere qui in questo disegno, in questa animazione che è il suo primo ostacolo che deve superare, che deve abbattere per poter entrare nella nostra facoltà. E allora tutte le università, come voi sapete, stanno investendo molto in questo campo che è detto dell'orientamento perché è molto importante, secondo la mia opinione, saper indirizzare i ragazzi alla giusta scelta è veramente un'attività di grande responsabilità in cui le università stanno dedicando molte risorse e naturalmente stanno dedicando anche molto personale, molti docenti si stanno anche interessando a questo tipo di tecnologie. Mi piace qui rappresentare alcuni esempi di università che stanno dedicando molto delle loro energie e anche delle applicazioni informatiche in questo campo dell'orientamento una per tutte l'università di Cagliari, che è la facoltà di medicina dell'università di Cagliari che già da tempo presentò un lavoro alla Ciel proprio in questa applicazione dell'orientamento con un progetto che è chiamato, come potete vedere, Sostest un progetto che era sperimentale alcuni anni fa con la collaborazione dell'assessorato alla pubblica istruzione della provincia di Cagliari e che ha realizzato questo progetto, come potete vedere, in cui le scuole sono abilitati a iscriversi a questo portale sviluppato con Moodle e nel quale gli studenti possono iscriversi e iniziare a seguire dei corsi di formazione sui moduli nei quali poi verterà la prova finale, dei moduli totalmente a distanza con la guida anche di un docente tutor che li segue in questo percorso e con poi la possibilità sempre a distanza di verificare il percorso formativo che stanno compiendo singolare è anche la capacità che questa iscrizione viene fatta nei primi mesi dell'anno accademico in cui loro dovranno sostenere la prova, cioè viene svolta l'iscrizione verso febbraio-marzo quindi a febbraio-marzo loro iniziano a seguire questi corsi totalmente a distanza nel giro di 2-3 mesi loro li concludono e successivamente il contatto che inizialmente è venuto a distanza poi continua con un breve incontro in aule reali dove i ragazzi sviluppano proprio un test di simulazione reale e verificano i progressi che hanno compiuto totalmente a distanza mi sembrava giusto far vedere questo lavoro che è un grosso lavoro dell'Università di Cagliari in questa prima parte degli aspetti formativi di quello che sarà poi un operatore sanitario esso medico, esso infermiero, esso fisioterapista un'altra realtà è quella che vi voglio presentare, quella della Sapienza Medicina Sapienza come voi potete vedere ha realizzato in campo orientamento un questionario che ha intitolato Conosci te stesso un questionario molto complesso articolato da ben 260 domande divise in varie sezioni per quanto riguarda lo sviluppo della personalità l'orientamento accademico, l'orientamento professionale è rivolto non soltanto agli studenti di medicina ma è rivolto anche a studenti di altri corsi di laurea che vogliono accedere e ambiscono a entrare in altri corsi di laurea e a questi studenti viene data la possibilità a distanza di seguire dei moduli didattici come voi vedete sempre dei corsi che riguardano le prove che poi loro dovranno adempiere e non solo possono quindi capire il loro profilo di personalità capire se le motivazioni sono quelle giuste per affrontare come avete visto un cammino tortuoso e lungo per quanto riguarda il cammino della laurea nei corsi di laurea di medicina ma anche viene data la possibilità poi di svolgere dei test anche qui in simulazione o di scaricare, di fare un download dei test svolti negli anni precedenti in modo da verificare i loro progressi ma a questo grande sforzo dell'orientamento che ripeto, questi erano due esempi ma tutte le università stanno dedicando molte delle loro energie all'orientamento ovviamente anche il Ministero dell'Istituzione dell'Università della Ricerca ha implementato un sito che ha chiamato come voi potete vedere Universi Italy nel quale è dato la possibilità a tutti in modalità quindi open access di svolgere da casa un test di simulazione come voi vedete nel test di simulazione per gli accessi ai nostri corsi di laurea sono 80 domande qui viene semplificato in maniera perfetta quali sono 40 domande di logica 18 di biologia 11 di chimica 11 di fisica e matematica e addirittura viene spiegato che nel test di simulazione verranno dati un punto per ogni risposta 0 punti per una manca proprio come avviene esattamente nella realtà ma la particolarità di questa simulazione di test è che lui prende ha un database è stato realizzato un database di tutte le domande svolte dal 2005 dall'anno accademia del 2005-2006 fino a quell'ultimo 2011-2012 e da questo archivio di domande lui nel momento in cui l'utente clicca sulla inizia la prova di esame in maniera random vengono estrapolate vengono tirate fuori 80 domande in maniera casuale e si procede alla prova con un tempo fisso che è di 2 ore come è effettivamente come è nella realtà e viene dato poi anche il punteggio acquisito la cosa interessante è che una persona che ha effettuato un test ne può eseguire tante altre e ogni test sarà sempre diverso perché ogni domanda ovviamente sarà estrapolata da questo database che è stato realizzato questo per farvi vedere un po' come sono come in questo sito vengono diciamo disegnate le domande e poi ovviamente c'è alla fine delle 2 ore il risultato del test seguito bene il nostro studente è riuscito il nostro ipotetico studente è riuscito in questo gioco che noi stiamo un po' facendo con tutti voi è riuscito a superare la prova di accesso al test di medicina però adesso si pone altre domande domande che non solo riguardano gli studenti ma riguardano anche noi che stiamo nell'università voi sapete voi colleghi che da gennaio 2012 come previsto dalla legge 240 la legge Cermini le facoltà cessano le loro attività le attività didattiche confluiscono nei ripartimenti e quindi anche questo può essere per questo motivo un motivo di diciamo disorientamento sia da parte degli studenti che da parte dei docenti in particolare c'è un articolo che riguarda questa legge 240 della legge Cermini che contempla la possibilità per le facoltà di medicina di realizzare delle cosiddette strutture di raccordo queste strutture di raccordo di raccordo vengono realizzate perché noi abbiamo anche l'attività assistenziale da assolvere e questa attività assistenziale è imprescindibile dall'attività didattica e di ricerca quindi dato che dobbiamo avere anche un rapporto collaborativo ed economico con il sistema sanitario nazionale si è pensato e questa la conferenza dei presidi di medicina lo ha ribadito di comunque istituire queste strutture di raccordo che siano super che facciano da supervisione dei dipartimenti che sono poi eventualmente incartinati nei settori scientifici disciplinari della medicina ora il problema è come chiamarle queste strutture di raccordo e qui è un problema che fino a gennaio sta un po' diciamo assillando le varie facoltà e io vi faccio vedere che vedendo dal ovviamente non avendo non essendo delle altre facoltà posso solo fare un riferimento a quello che è visibile via web se voi vedete Firenze Pisa per esempio Messina continuano per il momento a chiamarsi facoltà mentre invece parlo sempre di queste strutture di raccordo mentre per esempio voi potete vedere qui che l'università degli studi di Genova in analogia a quanto fatto in alcune realtà estere come Monaco o come la Stanford University insieme all'università del Piemonte orientale che ha in Novara il settore della medicina vedete che hanno già cambiato hanno già rinnovato le loro pagine web e si sono adesso definite scuole di medicina o scuole mediche e farmaceutiche quindi diciamo sta avvenendo la trasformazione in alcune nostre facoltà del cambiamento del nome anche della stessa facoltà il cambiamento del nome non è di poca importanza perché ovviamente questo si rifletterà anche sull'organizzazione di come vengono erogati i corsi vengono erogati i corsi a distanza in modalità e-learning qui possiamo vedere questo è un esempio dell'università della medicina di Sassari o di nuovo della sapienza per il momento sembra che nella gran parte delle facoltà l'organizzazione dell'erogazione dei sistemi informativi a distanza dei corsi universitari rimanga come era in precedenza cioè divise nelle varie facoltà e quindi anche c'è la facoltà di medicina e chirurgia che in maniera centralizzata eroga questi contenuti ma ripeto questa è una situazione che potrebbe cambiare e lo si capisce molto meglio dalla realtà dell'università della facoltà di medicina di Padova dove invece come voi potete vedere la facoltà di medicina si è già scissa nei vari dipartimenti e i vari dipartimenti in maniera indipendente l'uno dall'altro hanno realizzato dei siti web che si appoggiano su un server centrale o su un server proprio proprietario del dipartimento per erogare i contenuti formativi quindi questa sarà certamente una prima trasformazione tutte le università tutte le facoltà dovranno decidere strategicamente che cosa fare io ho preferito farvi vedere appunto questa realtà nostra che già diciamo si diversifica in alcune facoltà che mantengono l'aspetto centralizzato e che alcune facoltà invece decidono in maniera autonoma di erogare i propri contenuti didattici ma un'ulteriore diciamo perplessità può essere anche da parte dei docenti perché voi tutti sapete che la principale piattaforma che eroga in Italia è diciamo anche a livello estero contenuti multimediali e corsi diciamo e corsi di formazione è Moodle e Moodle in questo periodo sta avviando un processo di trasformazione da un vecchio diciamo da alcune vecchie release alla diciamo release nuova 2.3 che è quella attualmente diciamo più recente nell'ambito dello sviluppo di questo software beh da quello che però si intuisce da questa slide questo processo di passaggio dalle vecchie release alle nuove non è proprio indolore permettetemi di dire a medicina lo posso dire quindi perché 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 come voi vedete per esempio questo è un esempio dell'Università di Sud di Genova o della Sapienza si è deciso di di lasciare le vecchie piattaforme quindi l'insegnamento i corsi incardinati con le vecchie piattaforme e eventualmente di di istituire i nuovi corsi con la nuova piattaforma lo si legge benissimo qui i nuovi corsi potranno essere creati solamente nella nuova piattaforma quindi strategicamente si decide di utilizzare una nuova piattaforma solo per i corsi nuovi ma viene data la possibilità ai docenti di utilizzare la vecchia piattaforma molto probabilmente perché più abituati a questo tipo di piattaforma è chiaro che questo sarà un altro problema che si secondo me si dovrà affrontare nei prossimi mesi perché probabilmente il passaggio a questa nuova questa nuova release di questa piattaforma la 2.3 dovrà portare anche a trovare le risorse sia economiche sia di personale per addestrare i docenti a tutte le raffinatezze che questa nuova versione di software può portare quindi anche questo io lo evidenzio come una possibile problematica che nei prossimi mesi saremo chiamati ad affrontare questa è una slide che fa vedere un problema che si sta verificando negli ultimi tempi è un problema un po' delicato è stato presentato questo lavoro da alcuni colleghi dai amici della Marina Rui a Nasiri di Genova è stato presentato all'ultimo Moodle Mood su una esperienza di corsi totalmente a distanza in medicina e certamente questo è un argomento un po' delicato perché come voi tutti sapete la facoltà di medicina è una facoltà numero chiuso e quindi svolgere i corsi totalmente a distanza potrebbe essere potrebbe aprire una problematica delicata però si comprende benissimo l'esigenza di questi colleghi perché come tutti noi sappiamo il personale docente all'università diminuisce di numero aumenta l'età dei docenti e poi la facoltà di medicina ha delle sedi che sono decentrate come c'è la Genova anche noi abbiamo delle sedi a 150 200 km di distanza e in particolare anche Genova con la configurazione geografica che ha con strade molto tortuose certe volte a volte difficilmente anche percorribili ha questa esigenza di poter trovare un'alternativa alla mancanza dei docenti per supportare dei corsi di laurea a distanza dei corsi di laurea svolti anche a 100 150 km di distanza con anche l'aumento dei costi di trasferimento dei docenti e quindi per tutte queste esigenze ecco come si può notare qui che le applicazioni informatiche non vengono più utilizzate come complemento di un'attività didattica svolta in maniera frontale ma addirittura sostituiscono sostituiscono l'intera figura del docente universitario dal punto di vista reale è chiaro che questo processo formativo viene svolto attraverso un cammino formativo realizzato molto bene con l'ausilio di docenti universitari tutor che seguono i ragazzi online a distanza in tutto il loro percorso formativo però l'attivazione per il momento riguarda soltanto tre discipline di cui soltanto una di tipo sanitario credo che se non ricordo male era epidemiologia però mi sembrava giusto farvi vedere questa nuova tendenza che credo sarà probabilmente adottata anche da altre università io sto sempre anche comunque ogni tanto do uno sguardo se qualcuno di voi e mi fermo ovviamente se qualcuno di voi vuole aggiungere correggere vuole dire insomma io ogni tanto guardo una domanda che potrei anche farvi se vorreste eventualmente rispondere secondo voi lo studente può utilizzare liberamente risorse sul web per imparare e approfondire tematiche nel campo medico voi che cosa ne pensate c'è qualcuno che vuole rispondere a questa domanda ok c'è l'ita che dice certo benissimo aspetto se qualcuno sta digitando qualcosa vediamo se sono in cc non riesco a capire paolo scusami cosa vuoi dire ah ok scusa io non sono uno specialista di scienze della formazione ok bene vediamo se qualcun altro ok certo Donatella ha ragione vediamo cosa dice dia scusate se approfitto perché credo che sia un seminario sia sia giusto partecipare tutti e beh certamente dia sì certamente però vediamo è la famosa didattica che attiva e dice edita l'autonomia dello studente vediamo cosa dice Cristina perdonatemi se aspetto cosa dicono i miei colleghi certamente dice non credo che può sostituire i corsi in presenza io concordo però vediamo un po' se almeno possono integrare una didattica possono integrare in maniera qualitativa anche eh certamente Cristina dice così anzi è auspicabile certamente concordo benissimo grazie Bruno e un saluto a te ovviamente anche bene allora e certo anche Wilt Award vediamo un po' ok io ho risposto così a questa domanda sì si ha buone conoscenze la lingua inglese non so se vi aspettavate questa diciamo risposta mia se avete qualche commento da fare su questo io aspetto sempre eventualmente se qualcuno di voi vuole commentare questa mia risposta certamente l'ITA è chiaro che deve essere soprattutto sul campo medico ma credo anche anche le elezioni fondamentalmente devono essere in presenza almeno per il campo medico insomma ok sì benissimo Tommaso giusto e vediamo cosa dice Cristina aspetto un attimo che Cristina dica qualcosa io adoro la distanza va bene io diciamo invece preferisco un po' anche la presenza però benissimo ecco Cristina benissimo ecco e questo è soprattutto il motivo perché non deve essere solo la medicina ovviamente questo è uno spunto è uno spunto anche per tutti i colleghi che non sono della medicina per vedere un po' quello che si può fare benissimo io vi faccio vedere adesso se posso andare avanti se ok l'italice per tutti vi faccio vedere un po' quello che è il punto della situazione per quanto riguarda la medicina in particolare io adoro anche l'open access mi sembra un po' che l'avete un po' intuito e vi faccio vedere quello che attualmente ovviamente non voglio essere non ho la presunzione di essere completo esaustivo e quindi scusatemi per le mancanze o le omissioni che io farò però voglio farvi vedere il lavoro che ho fatto io quando voi avrete la possibilità poi ho anche i colleghi che in differita potranno utilizzare questi contributi che secondo me sono molto validi sentendo tutti i colleghi che mi hanno preceduto ed è una nuova fase della società italiana di dire permettetemi questo piccolo inciso in cui iniziano a prodursi dei contenuti non parlo del mio ma parlo dei colleghi dei contenuti che possono essere a disposizione ecco come una società scientifica questa secondo me è una strada veramente giusta di poter fornire anch'essa dei contributi nel campo formativo ecco questo è un elenco di università di prestigiose permettetemi di dire prestigiose università o di di gruppi che danno la possibilità agli studenti di medicina o anche dei laureati in medicina di seguire i corsi di qualità in ambito medico se avrete curiosità poi vedrete che ci sarà la possibilità ho messo il link a ciascuno di queste quindi potrete poi in un secondo momento eventualmente per curiosità andarle a vedere voglio solo farvi notare una curiosità che a me ha colpito tre di queste università sono in California ed esattamente la Carnegie Mellon University la Berkeley e quella dell'Irvin è veramente singolare e particolare che ben tre delle università siano in California e tutte e tre forniscono contributi in open access in medicina è veramente da essere orgogliosi di questa regione di quest'area che ha fornito e fornisce un grosso contributo in campo informatico ma anche nella condivisione diciamo ecco Elita Serrao sto leggendo vede l'innovativo che fa andare da iTunes Elita se hai pazienza ci arrivo subito e quindi ecco stavo dicendo della California che ha questa grande educazione nella condivisione nella no non devi scusarti Elita lo dico per me stesso allora volevo farvi rire un po' la metodologia utilizzata dai colleghi americani e esteri e learning by doing una metodologia secondo me molto valida questo è un esempio della Carnegie Mellon University in cui sono disponibili in modalità o gratuita o in modalità protetta dei interi corsi di medicina in questo caso voi potete vedere un corso di biologia diviso in vari moduli la modalità è molto didatticamente a mio parere molto valida sono dei moduli sviluppati molto bene con una parte teorica che spiega l'approccio al problema dei moduli in formato flash in modalità tridimensionale nelle quali si può navigare quindi l'utente lo studente può andare a cliccare navigare all'interno di questo mondo della cellula stiamo parlando ovviamente di un corso Tommaso dice no questi corsi Tommaso sono rivolti partono hanno vari livelli ovviamente era un lavoraccio per me selezionare per voi quali corsi erano per singoli diciamo per i primi anni o corsi diciamo per specialisti tutte queste università forniscono corsi sia per i studenti dei primi anni di formazione sia corsi di tipo specialistico quindi diciamo sono corsi a vari livelli ecco questo per rispondere a Tommaso in particolare ovviamente questo corso di biologia è riferito a un corso per studenti ai primi anni perché biologia è una disciplina che si svolge al primo anno di corso del corso di laurea in medicina o dei corsi di laurea triennali e stavo dicendo questo corso permette la navigazione proprio multimediale all'interno della cellula con visualizzazioni di fotografie in formato questa è una fotografia al microscopio o al microscopio ottico in particolare questa è una fotografia al microscopio a fluorescenza ma possono esserci anche fotografie al microscopio elettronico a trasmissione e lo studente può navigare nelle varie vedete nei vari organuli che compongono la cellula e avere una spiegazione sia fotografica che didattica di questi organelli che compongono la stessa cellula in più come voi vedete sul fondo di questa mia diapositiva sono sempre proposti delle verifiche in ambito formativo viene subito data allo studente la possibilità di vedere se la risposta è giusta o sbagliata e se non è giusta di tornare indietro e di approfondire di nuovo l'argomento non solo ma vedete ci sono qui non lo potete vedere ovviamente ma perché l'ho dovuto mettere sulla slide ma c'è la possibilità di non solo vedere di navigare in una cellula a livello tridimensionale ma di vedere proprio dei filmati in formato flash per esempio su tutti gli argomenti che riguardano la biologia in particolare in questo caso si sta discutendo dell'acidità delle soluzioni quindi del pH della sua relazione anche con le temperature e a questo filmato flash a questa animazione a questo concetto che non è molto semplice anche normalmente da spiegare agli studenti vengono proposte degli esempi vedete in questo caso in modalità aperta cioè non è un quiz in cui bisogna mettere una crocetta o un target ma bisogna rispondere in modalità aperta al quesito diciamo all'argomento proposto e subito viene detta la risposta se è giusto o sbagliata se è sbagliata si può sottomettere nuovamente il quesito e vedere se si è entrati in maniera più appropriata nell'argomento ancora vi voglio far vedere ripeto sono visibili vi ho messo il sito web quindi di ogni mia slide voi poi eventualmente potete se avete curiosità quando avete tempo potete potete vedervele dal vivo questa per esempio è un'animazione sulla dissociazione dell'acido acetico nella sua struttura ionica e anche questa si vede come formato flash e qui si discute invece qui si discute dei vari gruppi chimici che compongono i gruppi funzionali delle strutture biologiche di ciascuno di questi si può cliccare e di ciascuno di questi si può vedere l'applicazione pratica in una struttura vivente in questo caso su cui si parla della struttura dei gruppi idrofobici e nei gruppi idrofobici dei gruppi funzionali idrofobici si vede quali sono i componenti che compongono la membrana citoplasmatica cellulare dei gruppi idrofobici quindi si vede dal vivo esattamente quali sono le strutture che compongono i gruppi idrofobici di una membrana citoplasmatica accanto a questi corsi che sono ripeto in parte gratuiti in parte chiusi ci sono anche delle aziende private americane o estere che si sono lanciate in questo business dello sviluppo di moduli e di corsi di medicina come vedete questo è un esempio rapid learning che in modalità anch'essa molto interattiva ponendo un sacco di domande sull'argomento in questo caso si parla di neuroscienze guardate quante domande fa questo cammino formativo a distanza con delle verifiche anch'esse e queste sono le tematiche che loro hanno sviluppato e che come voi potete vedere abbracciano varie discipline della medicina dalla genetica alla microbiologia alla biologia cellulare alle neuroscienze sono corsi a pagamento nel quale come voi potete vedere alla fine loro dicono se vuoi entrare se vuoi usufruire vuoi fruire di queste nostre risorse devi pagare un certo numero di dollari se vuoi naturalmente come i software vuoi il corso basse devi pagare un po' di meno se vuoi il corso premium platinum devi pagare molto di più e questo non lo so io lo pongo come domanda potrebbe essere uno spunto per tutti noi o per delle aziende per sviluppare dei corsi da anche poi proporre a pagamento questi corsi non parlo solo dei corsi di medicina parlo di qualsiasi corso nell'ambito ovviamente dell'università potrebbero essere proposti sviluppati attraverso la collaborazione degli informatici o dei centri di servizi informatici delle università e poi offerti a pagamento ad altre università o a singoli docenti che potrebbero usufruire non so voi che cosa ne pensate su questa possibilità se c'è qualcuno eventualmente che se non vi siete addormentati tutti potrebbe essere anche questa secondo me un'idea questa è un'azienda ripeto un'azienda privata però potrebbe non è detto che questa cosa questa idea non potrebbe essere svolta dall'università certo va conto qualsiasi iniziativa open certo però sai Tommaso però in una ottica che l'università possa diventare anche diciamo da noi Tommaso le università si stanno molto interfacciando con le realtà diciamo delle aziende di medicina cioè le aziende sanitarie le aziende che utilizzano i farmaci quelle aziende farmaceutiche quindi per noi sai potrebbe essere più facile applicare comunque è soltanto un'idea la lancio così è chiaro che li dovrebbe gestire l'università come dice Gisella per garantire un po' anche la qualità bene bene allora questo per farvi vedere un'altra bellissima realtà a cui sentiamo Paola sta visitando qualcosa vediamo un attimo scusatemi se io ogni tanto mi fermo non vorrei togliere spazio però credo che sia importante sentire cosa non sente più Paola va bene voi sentite non lo so c'è qualche problema sentite sì ok benissimo scusatemi mi ero spaventato mi ero spaventato ok va bene no perché qui in ospedale certe volte succedono di tutti i colori va bene scusatemi volevo dire questa è una diapositiva che vi fa vedere un'importantissima realtà esistente è il più importante canale televisivo medico si chiama IMED TV c'ha una grandissima libreria in modalità open access quindi è liberamente questo è l'indirizzo ve l'ho messo qui sotto liberamente accessibile a tutti e quando l'andrete a vedere se avete curiosità di vederlo queste immagini sono questi video sono fatti veramente molto bene e sono e sono in modalità in modalità tridimensionale quindi sono sono didatticamente molto validi e questo è un ulteriore risorsa che hanno gli studenti che hanno gli utenti che possono utilizzare bene veniamo a quello che era stato detto prima e anticipato prima un'altra realtà oggi è iTunes iTunes è nata tanto tempo fa con soprattutto lo sapete meglio di me per la diffusione di contenuti audio in formato MP3 ma recentemente nel maggio 2007 iTunes ha stretto un rapporto collaborativo con l'università da questo è nato iTunes University che ha permesso alle università di pubblicare in modalità open access centinaia e centinaia di contenuti e questi che voi vedete sono in ambito medico però ovviamente non si limita solo all'aspetto medico ma abbraccia tutte tutta la scienza e tutta la conoscenza sono corsi realizzati dalle migliori università al mondo in modalità podcasting e sono video lezioni possono essere di tipo video lezioni cioè tu vedi esattamente il volto del docente e vedi le slide oppure semplici interviste o possono essere delle riprese di eventi scientifici oppure sono delle dispense che sono create da docenti che partecipano a queste iniziative un'altra un'altra realtà è un'altra realtà è questa che vi presento una realtà di un'azienda Waking School che permette agli studenti di navigare in diciamo in tavole anatomiche anche qui non tutto queste tavole anatomiche non tutte sono open access una buona parte sono in modalità open access e sono qualitativamente molto valide vedete c'è la possibilità di in questo menu di allargare la visualizzazione e quindi di navigare di andare ad osservare i singoli particolari per esempio dell'arto venoso questo stiamo parlando della della parete toracica e quindi di discutere e di vedere tutto lo sviluppo dell'albero venoso e naturalmente c'è anche la possibilità di stabilire un tempo di risposta ai vari requisiti quindi didatticamente di decidere di scegliere quale target preferire di dare la risposta e di scegliere anche un tempo di risposta anche questo sito permette queste tavole anatomiche ovviamente sono visualizzabili in formato 3D ruotabili a 360 gradi e ovviamente anche questo in parte è gratuito e in parte è a pagamento un'altra curiosità è questo sito tedesco che ha realizzato un gioco qui entriamo nella tematica dei simulazioni dei giochi di simulazione simulation games e Power of Research è una di queste simulazioni è un gioco nel quale l'utente ovviamente può districarsi nel diventare un ricercatore oppure può districarsi nelle problematiche di carattere clinico e quindi di carattere medico-cliniche io vi faccio vedere soltanto questa slide che fa vedere per esempio un medico un utente che gioca a svolgere dei determinati quesiti clinici questi sono i pazienti in questa sala di aspetto quindi vedete come la simulazione è fatta in maniera carina si parte come veramente dal vero con una fase con una stanza di accettazione una stanza dove i pazienti stanno in attesa della visita e successivamente il paziente l'utente medico che sta giocando a questo tipo di simulazione sceglie il paziente quindi sceglie il caso clinico fa accomodare il paziente sul lettino individua la storia clinica del paziente e in base alla storia clinica inizia a fare un sospetto diagnostico questo sospetto diagnostico viene ulteriormente arricchito dall'utilizzo di varie procedure di tipo diagnostico in questo caso come voi potete vedere ci sono delle radiografie ma può essere utilizzata anche la risonanza o l'ecografia o l'ecografia e successivamente il paziente scusate il medico arriva alla sua diagnosi e come potete vedere qui può addirittura decidere che tipo di terapia che tipo di procedure diagnostiche effettuare immaginate che questo è soltanto uno dei pazienti vedete quante sedie vuote ci sono e vedete quante possibilità ha di decidere quali strategie diagnostiche per determinati casi clinici lui ha come possibilità beh questa è un'altra simulazione un altro gioco di simulazione questo è il sito qui ci si ci si gioca a diventare a non a diventare perché qui bisogna avere già delle conoscenze in campo chirurgico a gestire un'operazione di sostituzione di impianto di stent coronarico lo stent coronarico è una procedura emodinamica che viene effettuata nei pazienti che hanno avuto un'ischemia del miocardio bene come voi potete vedere qui si parte dall'anatomia del cuore e poi ci si può decidere se diventare l'emodinamista o l'anestesista quindi diciamo se gestire sia la problematica dell'anestesia legata a questo tipo particolare di intervento o invece svolgere le mansioni dell'emodinamista che deve ovviamente fisicamente proprio impiantare questo stent nell'arteria coronaria cardiaca bene anche questo è in modalità open beh un'altra cosa carina che io ritengo carina è questo sito questo sito nei vari anni ha avuto uno sviluppo e questo l'ho voluto mostrare per dire come le tecnologie informatiche in campo medico veramente hanno una grande possibilità perché se non avessero funzionato questo sito come è successo per tante altre realtà avrebbe o chiuso o sarebbe rimasto sempre uguale invece credetemi io lo seguo da circa 7 anni questo sito che esiste da più di 7 anni inizialmente era partito solamente con questo tipo di simulazione cioè una simulazione di una sostituzione di una immissione di protesi all'anca successivamente poi sono stati aggiunti altri tipi di simulazione come quella simulazione che prevede un intervento chirurgico al ginocchio o per esempio simulazioni che riguardano lo sviluppo di una linea cellulare di tipo staminale io per farla breve vi faccio vedere solo un esempio quella di sostituzione di un'immissione di una protesi all'anca e di nuovo vedete la simulazione parte dall'accettazione viene proposto il caso clinico il medico tutor propone già il quesito diagnostico ci dice praticamente quale del zone deve subire l'intervento e chi ne capisce un po' di medicina riesce a distinguere da queste due radiografie che è questa la parte che deve subire l'intervento protesico perché qui c'è anche un esteso processo infiammatorio ed ecco che successivamente se la risposta è giusta ovviamente viene proposto di andare avanti e viene posto il quesito di scegliere che tipo di protesi impiantare quale tipo quale deve essere la sua grandezza e quale deve essere la sua forma successivamente addirittura viene proposto di eseguire proprio l'intervento chirurgico questo è un bisturi e qui si inizia quindi l'attività dell'intervento chirurgico vero e proprio bene queste erano un po' diciamo un po' per darvi un'idea di tutti i livelli di simulazioni che oggi possono essere svolte e realizzate da chi si interessa nel campo medico ma noi siamo fortunati anche perché in campo medico disponiamo di tecnologie che supportano raccolte di grosse banche dati la prima su tutte è la più importante banca medica esistente al mondo e tutti noi la conosciamo è la PAMED e questo è il nostro riferimento per l'attività di ricerca di pubblicazione dei lavori scientifici e naturalmente anche per l'aggiornamento professionale e voglio dirvi che la PAMED anche lei ha fatto una doppia scelta come voi potete vedere alcuni test alcuni articoli sono in modalità full text cioè sono in open access ma la gran parte soprattutto quelli recenti ovviamente sono a pagamento e quindi diciamo non sono è visibile soltanto l'abstract cioè solo il riassunto però vi ho messo questo sito la Biomed Central che invece è in modalità open access ed è un bellissimo sito perché raccoglie un database di più di un centinaio di riviste scientifiche più di un centinaio di riviste scientifiche quindi basta anche qui scrivere la malattia o scrivere l'intervento o la procedura diagnostica che estrapola da questo database tutti gli articoli che parlano di questo argomento e tutti in modalità open quindi tutti in full text bene e se uno studente entra in un corso di laurea della scuola o della facoltà di medicina e chirurgia come la vogliamo chiamare e non conosce l'inglese quali contributi sulla medicina potrà trovare in Italia voi siete fiduciosi che potrà trovare qualche contributo o invece dobbiamo per forza conoscere la lingua inglese tutti anche lo studente del primo anno del secondo anno che non ha che non ha conoscenze forse non so se qualcuno vuole dire vuole c'è qualcosa in Italia secondo voi o no nel campo però io purtroppo è certo Donatella che l'inglese è comunque imprescindibile ma avete fiducia che c'è qualcosa con piccoli scamotage poi Elita ci spiega così gli spiega anche a me che cosa sono questi piccoli scamotage e infatti non molto dice Donatella vediamo un po' secondo me no dice Elita dice sono un'esperta di lingue e quindi cosa vorresti dire non capisco cioè nel senso che sei un'esperta di lingue quindi non ti interessa delle cose in italiano forse queste Tommaso ho visto Tommaso no dunque sono un'esperta di lingue aiuti con i linghi imbranati ok vediamo cosa dice Teresa e Tommaso scusatemi un attimo se se ascolto loro Teresa non penso vediamo lì a Tommaso vediamo se dicono a me sempre non ci sia molto è chiaro che dobbiamo superare le barriere linguistiche è chiaro però sai Tommaso per i corsi di laurea triennali dove ci sono infermieri fisioterapisti sai almeno io parlo della mia realtà insomma in realtà meridionale sai c'è molta difficoltà per la lingua inglese c'è molta difficoltà non parlo per i corsi di laurea in medicina ma per i corsi di laurea triennali c'è molta difficoltà attraverso traduttori online va bene ok bene vediamo un po' Teresa Casalino sta scrivendo qualcosa vediamo cosa dice con le nuove tecnologie molti documenti in siti si possono rendere certamente sono d'accordo ai liti certamente certamente è certo certo hai ragione Teresa sei di Bari non so non hai ragione per chi per chi la facoltà di medicina no scusami Teresa ok la nostra facoltà quest'anno ha inaugurato il corso in lingua inglese del corso di laurea in medicina e si quindi hai ragione e certamente però Teresa credimi nei corsi di laurea triennali non è facile questo discorso benissimo allora guardiamo un po' quello che ho diciamo scelto io per me sono delle bellissime realtà una è l'università di studi di Padova in particolare è realizzata la biblioteca medica Pinali mi piace vedere questo perché credetemi questa biblioteca realizzata tenuta da uno staff di colleghi che secondo me sono molto preparati nel campo della comunicazione veramente molto preparati e anche devono essere molto appassionati perché io non li conosco personalmente ma li seguo da tanti anni e parliamo quasi di dieci anni che questa biblioteca svolge questo importante contributo in open access in ambito medico ha realizzato vari tipi di utilizzando vari tipi di tecnologie guardate quante tecnologie loro utilizzano l'RSS YouTube podcasting un blog che sarebbe Wordpress Facebook Wikipedia e ultimamente anche il quick response code per erogare contenuti informazioni in ambito medico di tipo non specialistico anche di tipo specialistico veramente io li seguo da tanto tempo con simpatia perché c'è tanto lavoro dietro a questa slide che voi vedete c'è tanta passione da parte di questi colleghi e quindi mi sembrava doveroso veramente doveroso farlo vedere a tutti voi ma un'altra realtà anche sempre dell'Università di Studi di Padova è come voi potete vedere questa collaborazione che ha fatto la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Studi di Padova con iTunes e in questa collaborazione con iTunes il lavoro realizzato è sfociato poi in una serie sono decine e decine i contributi gratuiti in formato video che voi potete vedere qui si parla di un caso clinico di un uomo di 45 anni e qui si vede diciamo l'ingresso e via via si fa l'anamnesi e via via si va avanti ovviamente sono in italiano e quindi sono numerosi questi contributi che hanno pubblicato i colleghi della medicina di Padova su iTunes e che sono liberamente disponibili mi sembrava giusto evidenziare anche questa realtà perché secondo me questa è una strada che non soltanto la facoltà di medicina di Padova ma tutte le facoltà dovrebbero perseguire perché è didatticamente molto valida non potrei non parlare della Federico II di Napoli la Federico II di Napoli è certamente l'università italiana che più di tutte le altre ha reso disponibili i propri contenuti in modalità open access qui vediamo la medicina però la Federico II ha investito parecchi anche diciamo soldi quindi ha un investimento economico molto forte in questo tipo di approccio quindi open access e non riguarda solo la medicina voi in questa slide ovviamente vedete la medicina ma credetemi riguarda tutte le facoltà quindi sia le facoltà di giurisprudenza di lettere di filosofia di ingegneria tutte le facoltà della Federico II sono hanno realizzato alcuni corsi totalmente in open access da parte di colleghi io ve ne faccio vedere uno in particolare medicina ne ha attivati 11 cioè oggi quando vi parlo sono attivi 11 corsi in realtà negli anni precedenti sebbene pubblicizzasse l'apertura di questi corsi molti di questi 11 non funzionavano però oggi se voi andate in questo sito tutti e gli 11 i corsi sono disponibili e sono fruibili da tutti gli utenti senza né username né password bene come sono strutturati lo vedete qua c'è il collega che si presenta dai suoi recapiti dai suoi contatti c'è a volte nel corso parte anche un audio proprio della voce di presentazione del percorso c'è il programma del corso ci sono i testi che vengono utilizzati per l'esame del corso e ci sono tutti gli argomenti divisi naturalmente come se fossero proprio delle lezioni e cliccando su ciascuno di queste come voi potete vedere si possono aprire dei contenuti che possono essere contenuti soprattutto sono dei contenuti di immagini che però si possono ingrandire infatti molto bene anche didatticamente validi e il sistema funziona vedete questa freccetta qui con lo scorrimento di tipo slide quindi lo studente l'utente può scorrere varie slide e può quindi studiare tutto il corso in questo caso un corso integrato di ginecologia e ostetricia ed è tutto gratuito permettetemi un piccolo accenno alla nostra facoltà anche la nostra facoltà da tanto tempo eroga contributi informativi in modalità open access in particolare la nostra facoltà si è interessata nella diffusione di decine decine di informazioni in ambito medico sotto forma di RSS e ha sviluppato un canale su youtube che non so se è giusto o sbagliato è comunque uno dei più grossi numerosi canali medici esistenti in Italia molti di questi video sono in alta definizione questa attività da circa due anni ha avuto quasi due milioni di accessi come voi potete vedere io posso parlare solo della mia realtà perché questa slide fa vedere chi accede alla nostra facoltà e come vedete l'open access è sempre vincente perché dovrebbero accedere soltanto gli studenti della nostra facoltà in questa nostra regione ma come voi vedete questo è la fotografia di un giorno di un accesso in un giorno alla nostra facoltà voi vedete anche quanti altri utenti accedono alla nostra facoltà e questi non sono nostri studenti quindi in generale io credo che la strategia dell'open access sia comunque vincente per la diffusione dei contenuti a livello formativo insomma beh finita l'università lo studente può seguire i master io ne presento solo due casi questo è un caso molto importante un master realizzato dalla università di studi a Piemonte orientale che è sviluppato dal collega Francesco della Corte è un master sulla medicina dell'emergenza e dei disastri è veramente un master fatto bene che utilizza le più innovative tecnologie informatiche come giochi di simulazione come diciamo come test come test di verifica test di apprendimento filmati video aule virtuali insomma veramente è il massimo dell'utilizzo delle tecnologie è sviluppato la prima parte è sviluppata completamente a distanza e poi c'è una parte invece dove viene fatta in presenza e poi c'è alla fine una verifica diciamo della del cabino formativo fatto addirittura svolgendo un gioco di simulazione un gioco di simulazione nel dirigere un dipartimento di emergenza e di medicina dei disastri un altro un altro master che voglio diciamo voglio presentarvi e questo ve lo presento perché ci sono tanti master in tele didattica scusatemi se ne presento solo due ma quest'altro lo presento semplicemente perché è un'associazione di tante università del Piemonte orientale Ancona Catania Catanzaro Bari Ferrara Genova Milano Napoli Federico II la Pisa e Roma la Sapienza si sono consociati a sviluppare questo master in tele didattica applicata alla medicina e mi è sembrato utile presentarvelo perché è un esempio di associazione fra varie università per realizzare un master l'ultima parte la voglio dedicare sto in conclusione a quest'altra tematica che sono gli ECM cioè la formazione continua il personale sanitario sia i medici sia il personale infermieristico fisioterapisti tutti diciamo gli operatori sanitari hanno devono temperare a un obbligo di formazione continua ma noi abbiamo l'obbligo di realizzare negli anni 2011 2013 di maturare 150 crediti formativi bene questi crediti formativi questi ECM normalmente vengono svolte in presenza e quindi vengono maturate attraverso il seguire dei seminari dei seminari quindi dei corsi proprio fatti in presenza ma ultimamente le tecnologie informatiche hanno dato la possibilità a delle aziende a delle società scientifiche e quindi questo potrebbe essere anche un campo della società italiana di e-learning di diventare provider per diventare provider ci sono dei regolamenti è stato stabilito un regolamento che stabilisce proprio in accordo al sviluppo di questa problematica dei requisiti minimi indispensabili per essere certificati come provider quindi ovviamente chi si propone chi società scientifica chi azienda privata si propone per diventare provider per diventare erogatore di corsi ECM a distanza deve avere ovviamente dei requisiti tecnico informatici e naturalmente del personale professionale e scientifico adeguato e certificato e poi la proposta viene inoltrata come voi potete vedere alle singole regioni e eventualmente se il provider vuole interessarsi su tutto il territorio nazionale a questa agenzia la Genas per i servizi sanitari regionali che può far sì che l'accreditamento sia a livello multiregionale per erogare dei corsi di formazione a distanza bene questi corsi di formazione a distanza la novità ultima è che esistono anche è possibile da parte degli operatori sanitari come voi potete vedere qua farli in modalità gratuita questo è proprio recentissimo perché prima un anno fa si sono già sviluppati questi corsi di formazione a distanza però erano tutti a pagamento come voi potete vedere la novità è che adesso ci sono dei corsi FAD anche che noi possiamo seguire completamente gratuiti io ve ne faccio vedere un esempio ovviamente nel resto del mondo c'è la possibilità da parte nostra di seguire dei corsi dei corsi di formazione a distanza basati come vedete questo è MScape questo è il sito MScape che dà la possibilità di un'educazione continua in medicina sono strutturati secondo il sistema del problem solving quindi c'è un 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 background e poi ci sono i vari requisiti a cui noi dobbiamo rispondere e se la risposta è corretta ci viene detto come voi vedete non solo ma ci viene detto anche in che percentuali i colleghi hanno risposto a questa domanda infine ci viene dato anche l'attestato per dire come siamo stati bravi insomma ok scusate invece vi volevo far vedere quello che organizzano le società scientifiche questo è un'azienda l'Accademia Nazionale di Medicina che in collaborazione con le società scientifiche a cui noi tutti apparteniamo ha elaborato dei corsi a distanza questo vedete è un corso fatto in collaborazione con la società italiana di diabetologia e ha realizzato un corso totalmente a distanza facendolo simulare come se fosse un corso reale quindi io non mi dilungo su com'è un corso reale ma credetemi vedendo come è organizzato questo corso a distanza è esattamente quello che farebbe un medico o un infermiere o un un tecnico radiologo se dovesse seguire un corso in modalità reale alla fine viene dato l'attestato che ha tutta la validità legale come se fosse come se avesse seguito eh si Donatella ci arrivo subito ci arrivo subito ok lo dico subito perché è una cosa molto bella anche su tutto subito della sanità allora sto vedendo se qualcun altro ha qualcosa da dire Tommaso sta scrivendo vediamo un po' Vito mi dispiace ma devo correre ok ok grazie Tommaso ciao grazie per la possibilità che mi hai dato grazie veramente scusami se mi sono dilungato ok io comunque sto anch'io in conclusione solo per farvi vedere come era come era come sviluppato un corso FAD a distanza eh questo è un corso di una collega che tiene una lezione e ovviamente questi sono i quiz della verifica finale a cui noi siamo obbligati siamo obbligati a rispondere bene ehm questa slide è solo per farvi vedere la raffinatezza che si sta raggiungendo da parte di chi sviluppa questi corsi a distanza guardate come eh questi test vengono supervisionati e dal punto di vista metodologico anche dalla società italiana di pedagogia medica quindi si tende a perfezionare sempre di più eh in meglio la qualità di questi corsi erogati a distanza attraverso la collaborazione di specifici professionisti in ambito formativo ok Fortunato sta scrivendo qualcosa non so se io sto per concludere non vi voglio trattenere eh questo è una una slide che fa vedere un un corso che si svolge invece dal vivo ed è organizzato all'ordine dei medici chirurghi odontoriati di Reggio Emilia ve lo faccio vedere perché questo corso però fatto non a distanza questo è un corso dal vivo per quanto riguarda IECM eh sviluppa una una metodologia didattica che invece è basata sul problem based learning e non quindi sul problem solving e il problem based learning una tecnologia didattica innovativa alternativa chiamatela come volete sviluppata proprio orgogliosamente lo voglio dire da un neurologo tanti anni fa intorno agli anni 70 in un'università eh credo che fosse canadese e questo neurologo Howard Barrow iniziò a proporre questa innovativa tecnologia eh didattica bene eh ve l'ho fatto vedere per mh farvi vedere che proprio l'istituto superiore di sanità eh ha iniziato da diverso tempo a erogare a distanza e in maniera anche gratuita eh vedete qui oggi è possibile iscriversi fino a questo corso fino a giugno 2013 eh in modalità come voi potete vedere problem based learning eh e questo è indicativo che l'istituto superiore di sanità eh secondo me voglia proprio indicare voglia spronarci anche secondo me a sviluppare anche per i nostri studenti delle lezioni eh su questo tipo di didattica con questo tipo di approccio bene io anche vedete quanti partecipanti addirittura 2000 guardate quanti partecipanti possono accedere a questo corso ECM e questo è grazie alle tecnologie didattiche 2000 sarebbe impensabile farlo eh farlo eh in modalità reale bene io ho concluso questo diciamo vi ringrazio per la pazienza eh se qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa insomma non volevo tediarvi tanto e spero che spero che insomma possa aver dato un piccolo contributo a a tutti voi fortunato Sorrentino dice in questo campo la qualità dei contenuti offerti fortunato per quanto riguarda gli ECM ti ripeto c'è un accreditamento in base a dei requisiti quindi il provider deve fornire tutta una serie di accreditamenti c'è tutta una serie di requisiti per poter garantire la qualità del corso per poter Io aspetto di leggere qualcosa, vi ringrazio veramente per la pazienza, qui siete stati con me, grazie Cristina, grazie Donatella. Grazie Paolo, saluto te, spero Lia di averti dato qualche stimolo informativo. Sto leggendo l'amico Bruno, non crede che una storia sia quella che prevede accordi, definizioni o adozioni? Certamente, non solo l'accordo fra Atenei, ma anche oggi, sai Bruno, anche la possibilità di collaborazioni con aziende, anche private, certamente sarebbe auspicabile, anche consorzi di Atenei, certo, anche per sviluppare dei prodotti formativi da diffondere sia gratuitamente che anche a pagamento, certamente. Credo che la società italiana di learning abbia veramente tanta strada e veramente tante cose da poter stimolare, ecco, questo sì. Grazie Lorenzi 2. Va bene, ci sono anche risorse per le persone, Gisella, non pensare anch'io, non sono un informatico, non solo un informatico, io credo che ci siano oggi sia in Italia che avendo una sufficiente conoscenza della lingua inglese e del glossario medico, ci si possa veramente perfezionare, approfondire gli argomenti, devi solo provare Gisella, devi solo sperimentare tu come ho sperimentato io tanti anni fa, io non sono uno specialista della comunicazione, ripeto, non sono un informatico, sono un patologo clinico, quindi devi solo sperimentare tu e piano piano vedrai i tuoi progressi, ecco. E' certo Gisella, si hai ragione, c'è qualche anche mio studente, vedo, io purtroppo i nomi non me li ricordo mai, sono tanti e quindi li ringrazio per la partecipazione anche. Ciao Elita, grazie per la partecipazione, spero di essere stato un po' utile in questo campo. Bene, io allora, ecco Bruno. Vedo Bruno che sta scrivendo, non vedo ancora, non vedo ancora il testo. Aspetto se eventualmente qualcun altro, vi saluto tutti, eh Bruno, eh grazie Bruno, certamente voi potete fare molto per la Ciel, io veramente sono fortunato a stare con tutti voi, con tutti i gruppi, e veramente anche grazie a Tommaso che mi ha dato l'opportunità di, insomma, di parlare di medicina, ecco. Grazie veramente, perché io imparo molto da voi, dai vari Marconato, Poletti, Giorgio Poletti, insomma, ci sono tanti di voi, sto imparando tanto anche grazie a voi. Bene, io allora, se non c'è nessun altro che voglia dire qualcosa, vi saluto tutti, ciao Donatella, ciao Cristina, Stefania sta scrivendo qualcosa, vediamo un po'. Fortunato. Ciao Fortunato, spero che questi seminari della Ciel siano sempre, sempre tanti, ci siano sempre persone, colleghi che possono proporre altri argomenti, ecco, perché per me sono stati tutti interessanti, alcuni li ho visti indifferita, che non potevo, però altri li ho potuti seguire in diretta. Bene, io credo che, ciao Teresa, credo che abbiamo fatto questa esperienza di Web Seminary, grazie all'Università del Reggio Emilia, io ringrazio ancora Luisa Righetti, veramente per la pazienza che ha avuto con me ieri sera, e vi saluto tutti e chiuderei il collegamento. Ciao Lia. Bene, un caro saluto a tutti voi e, ripeto, un ringraziamento ancora a Tommaso Minerva e a Luisa, se mi può ascoltare. Grazie a tutti voi.